Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale Genetic DNA E proseguiamo le avventure con Watch Dogs Allora, eravamo fuggiti dalla polizia Adesso dobbiamo raggiungere il nostro rifugio Che praticamente io anche se ho fatto continua Mi ha responato praticamente vicino al mio rifugio Quindi Penso che devo passare di qua Aspetta Di qua, no, devo passare di sopra Se io passo di qua, che cazzo è, esplosione Oh, bacca Che cazzo è vero Qua praticamente Ho, ho, ho Qua esplode tutto Cioè è veramente figo il Il sistema di Comunicazione con tutto quello che è Diciamo elettronico Dalle telecamere, ai cellulari Saldo accesso Cioè è veramente una cosa Fichissima ragazzi Io praticamente posso hackerare Tutto come avete visto Ok, adesso dobbiamo solamente raggiungere il nostro Coso qua Coso qua Vediamo se riesco a raggiungere il mio rifugio in qualche maniera Raggiungi il tuo rifugio Ok Dove cazzo Cos'è sto cosa Copri i cavi Oh cazzo Mettimi in crube Ma che cazzo Ho fatto Ok Sì ma amico Cosa devo scendere Cioè Decidi di cazzo Ok Scusate eh Ma mi sono un pochettino Perduto ma Oh santo Aspettate Forse mi sa che di qua Esplosione forse mille di no Cos'è la valvola? Ma baffanculo Bravo coglione Che qui te le velvele Sostiene l'amore libero Non lo so Fallo Fallo Devi cambiare Sei annoiata L'hai detto tu Fallo Ma inizi sempre con un ma Beh anch'io quando dico Ma che bel culo signorina Ma dai Ma mia donna Ammettilo dai Oh cazzo No dai non ci credo Vabbè Ok comunque Vacca puttana Dove cazzo devo andare Cristo santo Cioè datemi un Qui No Aspettate Acqua forse Ops Ops Bello Sì ma vacca puttana Raggiunge Sì ma ragazzi Io Ciao Ah ma forse devo entrare di qua Scemo Scemo Sali Ma come sali Cavolo Cioè praticamente è talmente Un nascondiglio perfetto Che non riesco neanche a trovarlo io Cioè non ho capito cos'è sta cosa fa Con i cavi Ma che succede Ah ho trovato Cioè mi sono ucciso Cioè ho visto dov'è ma Non riesco a capire come cazzo arrivarci Hai provato a fare il giro dall'altra parte Sì Crettino Ci ho passato a fare il giro cinquette volte Ah però che bel rifugio Oh la gente Girano delle voci Non hai idea di cosa passano parti Devi andartene via Vabbene Che ci fai seduto qui? Viene non è vero Non come l'altra volta Jackson io l'ho invitato È passato del tempo Sei sicura che il numero sia giusto? Amore Tuo zio è una persona particolare Però ti assicuro che ti vuole bene Ok Ok abbiamo raggiunto il rifugio Quindi adesso Le informazioni sulla posizione di Maurice Erano giuste Abbiamo ottenuto l'accesso alla backdoor Del sito OS Mentre distraivi la polizia Ti mando quello che abbiamo Siamo sulla stessa banca La backdoor Ti permette di avere accesso Alla rete sito OS Sto lavorando su una cosa più grossa Dammi tempo Punto abilità ottenuto Perfetto Allora Se io faccio così Oh Bene Allora Qua Possiamo potenziare Quindi adesso Non mi fa potenziare nient'altro Cancelli Gerai Sei sicuro di voler acquistare Questo tratto Per un punto E per forza Non mi fai andare Da nessun'altra parte Ok Punti abilità Ne ho 5 Controllo treni Batteria extra Questo punto Giunge batteria slot extra Sì Questo qua mi potrebbe servire Bancomat Pupupupu Controllo treni Questo cos'è? Punti Cavolo Costo 1 Sì Potrebbe anche servire Ma anche questo Aumenta la quantità di denaro Ottenuto Quando si accronano I conti Banca di banca Questo mi possono servire Soldi Servono sempre i soldi Treni Ste cose qua Vabbè Lasciamo perdere Ok Cazzo è sto bordello Abilità notorietà Cazzo vuol dire? C'è che C'è veramente un bel casino Combattimento Fai da te Guido Disattivo automaticamente Gli antifurti C'è veramente si può configurare Veramente di tutto Qua voglio farvi vedere Brevemente un po' Ma da quello che ho capito Qua c'è Beh punti abilità per potenziare i vari L'hacking Il combattimento Il fai da te E la guida Qua ci sono le statistiche L'esperienza Reputazione Denaro Oggetto di valoro Controllo CTOS Qua Oh cavolo Ci sono i progressi Come potete vedere Qua cos'è Missioni principali Qua ci sono le missioni principali Le missioni secondarie Le varie indagini Contratti online Addirittura E qua ci sono i mini giochi Ok diciamo che c'è veramente un bel po' di roba Quindi adesso vediamo i componenti elettronici Perfetto Questa è la nostra casa Praticamente Qua c'è il letto Qua c'è un portatile Che non so cosa devo fare Sistema del riposo Usi nascondigli per Riposarti Riposare Cambia l'ora del giorno Ripristina la concentrazione E salva la partita Allora io direi di salvare la partita Facciamo così Ah qua mi fa scegliere pure l'orario Eeeh Vabbè io dicio Direi Che dormiamo fino alle 8 Dai Tac Ok Andiamo a poco Ciao Ciao Grazie a tutti. 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 Ah ok, qua ci sono praticamente le varie cosette. Profila le persone per evituare attività criminali. Allora, creiamo questo. Un giorno dovrò ringraziare il sito S. Basta violare il sistema di riconoscimento facciale per avere accesso ai dati personali di chiunque. Faccio l'acquero. Questo è davvero pazzo. Ma oggi non farà male a nessuno. Mi basta tracciare la chiamata ed è mio. Indaga nell'area del possibile crimine. Andiamo veloce a vedere un po' cosa accade laggiù. Adesso com'è che si faceva scendere? Oh mio Dio! Ok, ci andiamo di qua. Oh, finalmente vedo una bella Chicago luminosa perché ho visto solo di notte che pioveva. Qua attraverso la strada adesso io mi incrucio, lo so già che mi faccio tirare sotto. Ecco qua. Che problema hai? Scusami! Signora! Non volevo. Sei cieco? Oh, no, scusa! Porca miseria. E da queste parti? Occhio a dove vai non farti scoprire. Lascia fare al profiler. Rinuovamento di crimine. Quando il CT o essere l'epo impossibile crimine raggiunge l'area, profila X per identificare un potenziale. Non farti scoprire, aspetta. Apri il profiler. Saluta! Ok, cerchiamo di essere ragionevoli. È troppo tardi. Ah, sei uno stronzo. E per quale motivo sarei uno stronzo? È vero. Dimmi che non penseresti la stessa cosa. Ti assicuro che non la penserei come te. Persino lei ha ammesso che il ciclo le ha rovinato il weekend. Il fatto di essere d'accordo non mi rende... Troviamo questo tizio e facciamola finita. Ecco la donna che sta seguendo. È vicino. Lo sento. Ok, dobbiamo parlare. Ok. Non c'è niente di cui parlare. Abbiamo chiuso. Rassegno. Ti sbagli. Non ho ancora finito. Andiamo a fermarmi subito. Guarda che che rido. Vi faccio vedere. Non è finito. Non è finito. Va via. Oh, cazzo. Scusa. T'ho fermato. Bastardo. Anche se però ho fatto esplodere la faccia alla tipa lì. Bu. Nuove abilità disponibili. Fantastico. Fantastico. Bene. Ok ragazzi. Io penso che comunque... Ricompensa. Apri la ruota. Ok. Qua ci sono i minigiochi. Collezionabili. Giochi online. Ok. Qua ci sono le abilità. I progressi. Perfetto. Telefono rubato. Mickey, senti, lo so, la festa è iniziata. È quasi finita. Tu dove sei? Sto arrivando. Ah, mi farà impazzire. Jackson ci tiene davvero, non vede l'ora. Vieni qua, ci manchi. Anche voi. Arrivo. Scusami, Nick, ma ho una chiamata. Ci vediamo presto. Bene, sei uscito. Senti, se ti serve una macchina, fammi uno squillo. Ci penso io. Auto usate? Preferisci dare il tuo nome a una concessionaria? Io non faccio domande. Questo tizio mi rimedia ciò che voglio. Anche a te, se vuoi. Vedremo. Come sta, Maurice? Ah, quello sta una vera favola. Ci penso io a scaricarlo al solito posto. Mi serve vivo, Giordi. Ok, ok, vivo. Certo. La controlla tua natura, eh? Forse per me un colpo in testa è via. Ma paghi tu. Quindi lo lascio in vita quanto vuoi. Io voglio solo i soldi. Per farti consigliare un veicolo, accendi al tuo smartphone, seleziona l'app auto richiesta. Ok, fantastico. Sì, ok, praticamente io posso benissimo anche fare il finto tonto, oppure posso acchelare tutto il mondo. Fichissimo, veramente. Vabbè ragazzi, io direi che questo gameplay può finire qua, ma se io rubo quella macchina... Questo gameplay qua può finire qua, però vedi il tutorial completo. Vabbè, questi tutorial qua me li guarderò poi io con calma. Però io direi di... Di tornare velocemente nel mio appartamento così posso salvare la partita e... Diciamo che poi dopo... Vi saluto. Oh, io intanto hackero tutto. Ciò per nuovo veicolo disponibile. Perfetto, fico. No, è l'altra porta. Cioè, non so neanche dove cazzo abito io. Cioè, ma cazzo chiudi la porta. Non la chiude la porta. Ok ragazzi, direi che posso riposare così mi salvo la partita. E vi aspetto al prossimo gameplay. Ciao ciao a tutti da GeneticDNA. Ciao a tutti.